Originario della provincia d'Imperia, 45 anni e con un'esperienza nel soccorso marittimo che ha coordinato fino a pochi giorni fa al Comando Generale a Roma. È il profilo di Sirio Fae, il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, accolto in città con una cerimonia che ha visto ufficializzare il passaggio di consegne con Antonio Nasti, che per tre anni ha guidato la Guardia Costiera, raggiungendo importanti risultati come la nuova sede della Capitaneria e l'acceleramento delle procedure per il dragaggio del porto. Emozionante la cosiddetta formula del riconoscimento con cui Nasti ha investito il nuovo comandante e a cui è seguito l'inno d'Italia. Gli obiettivi sono senz'altro quelli di continuare sull'onda dell'ottima attività che è stata condotta fino ad oggi. La presenza della Guardia Costiera, della Capitaneria di Porto è fondamentale perché svolge un ruolo di tutela dell'ambiente, di tutela della sicurezza della navigazione, di anche amministrazione di molte delle attività marittime ed è mia intenzione continuare a perseguire il miglioramento di tutte queste attività. La presenza costante sul territorio con gli uomini della Capitaneria di Porto che sono veramente ottimi uomini, questo mi è stato testimoniato da molti colleghi e quindi gli obiettivi saranno quelli di continuare a migliorare i servizi che vengono dati alla collettività. Il comandante Nasti cosa le ha raccontato di questa realtà? Allora, il comandante Nasti intanto mi ha dato un quadro della situazione generale del compartimento marittimo. Sono molto felice di aver appreso che è una realtà vivace, è una realtà anche di una generale, dove si vive un generale senso di legalità. Pertanto le premesse sono ottime. Presenti alla cerimonia che si è svolta nel piazzale del porto, istituzioni militari, civili e religiose, oltre che il direttore marittimo di Abruzzo, Molise e Isole Tremiti Enrico Moretti. Presenti anche i rappresentanti delle categorie della pesca e diversi operatori portuali. Il comandante Nasti, a cui è stata anche riconosciuta la cittadinanza onoraria, si trasferirà a Roma, dove ricoprirà un prestigioso incarico al Ministero.